Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Achille Costacurta è tornato sui social con un altro video discutibile. Il figlio di Martina Colombari e Billy si è mostrato mentre il suo gioieliere di fiducia gli fa i denti nuovi, ovviamente tempestati di brillanti. Dopo i video in cui offende sua madre Martina Colombari mostrando droga e mazzette di soldi, Achille Costacurta è tornato attivo sui social con un altro filmato che avrebbe fatto bene a tenere per sé. Il ragazzo ha voluto condividere con i fan i suoi nuovi denti tempestati di diamanti. Mentre i comuni mortali vanno dal dentista, Achille Costacurta va dal gioieliere per farsi impiantare i nuovi denti. A corredo del video in cui si mostra mentre prende il calco, il ragazzo ha scritto non mordere mai il tuo gioieliere mentre ti fa i denti nuovi. Il filmato, che ha già superato le 40-50 mila visualizzazioni, ha diviso i fan. A breve, quindi, Achille Costacurta sfoggerà una nuova dentiera extra lusso. È stato proprio questo dettaglio a fare infuriare parecchi fan. Tra i commenti si legge «Da piangere di fronte a tale sfrontatezza inutile pensasse di andare a fare volontariato in Africa». Vanno figli di gente molto più ricca, oppure quando il massimo del minimo tocca l'apice. O ancora, e poi questo...